La Vispesero si prepara a rientrare nella sua casa. Allo Stadio Benelli è stata completata la rigenerazione del manto erboso dell'impianto sportivo con un nuovo fondo sintetico sul quale sarà attuabile in un secondo momento anche una coesistente semina di erba naturale. Oggi allo Stadio rappresenta la Commissione Criteri Infrastrutturali della FIGC la cui relazione accenderà il semaforo verde all'omologazione del campo consentendo alla Vis di rientrare al Benelli alla sesta giornata del campionato di Serie C, ovvero per Visfermana, partita che è stata calendarizzata per la serata di lunedì 2 ottobre. Vische tornerà a casa dopo due turni di trasloco a Recanati, il primo già giocato con l'Olbia, il secondo da disputare martedì con Lentella. I lavori sul quale il Comune ha investito 900.000 euro sono partiti a giugno attraverso la ditta appaltatrice abruzzese del Fino Sport che ha rispettato il cronoprogramma di consegna del lavoro concluso al 13 di settembre. Questo qui è l'ultima generazione di manti sintetici, ovvero sono manti sintetici con intasi prettamente organici che possono essere anche trasformati in live, cioè possiamo anche in futuro seminarlo se vogliamo, quindi avere un terreno di gioco con un supporto sintetico e un'erba naturale. In questo momento si giocherà su sintetico, però volendolo si può anche rendere naturale. C'è un sottofondo a drenaggio verticale, quindi assorbe tutto il campo l'acqua piovana, non è uno scorrimento laterale, quindi non si avranno più problemi di acqua, di allagamenti e di altro, di sospensione di partite. Oltre a risolvere il problema di drenaggio di un terreno esausto, allo stadio sono anche state rifatte in maniera interrata le panchine ai margini del campo da gioco e una serie di opere accessorie minori che verranno completate a giorni. Un pacchetto di interventi concluso che la Vispesero presenterà assieme al Comune martedì 26 settembre.